Fortunatamente questo è il bello dello sport ma anche della vita, insomma, quello che succede diventa un fatto, va analizzato, vanno presi degli spunti e poi è importante quello che succederà e per noi sarà importantissimo riuscire a fare una partita diversa da quella che abbiamo fatto sabato in casa contro un avversario di valore come sono tutti avversari di valore, ma quello che conta è che noi sapremo essere in grado di fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto sabato scorso. Non so ancora di preciso quali saranno i ragazzi che inizieranno la partita, so per certo quelli che sono a disposizione perché fortunatamente è finito questo periodo in cui circolano tante voci, in cui tanti ragazzi possono essere sollecitati più o meno a fare delle riflessioni e questo periodo fortunatamente è finito, lo mettiamo alle spalle anche questo e guardiamo avanti sapendo che abbiamo davanti un percorso ancora lungo, dobbiamo affrontare ancora tantissime squadre e sappiamo però che questa che arriva è una partita importante, non dandogli il peso che merita perché sicuramente non sarà determinante, mi auguro un giorno con questo gruppo di riuscire a giocare delle partite determinanti e non sarà quella che andremo ad affrontare sabato, però lo spirito che voglio vedere è come se lo fosse perché è importante ripartire da dove avevamo lasciato prima di una brutta prestazione quale è stata quella di sabato. Per me ovviamente non cambia tantissimo quello che succede prima perché so benissimo che nello sport ci possono essere buoni umori, mali umori, risultati positivi e risultati negativi e la cosa che mi ha sempre contraddistinto è quella di riuscire a affrontare entrambi i momenti con le stesse modalità, quindi ho fatto delle chiacchiere con i ragazzi soprattutto perché è finito un periodo come abbiamo detto adesso in cui ci sono state tante voci, queste voci non ci saranno più, sappiamo quali sono i giocatori che parteciperanno a questo rush finale e insieme ci siamo detti che dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto sabato perché sicuramente al di là dei meriti degli avversari ci stanno anche tanti demeriti nostri e quello lo sappiamo benissimo e abbiamo subito l'intenzione di ripartire con un piede diverso da quello che abbiamo lasciato. Subire in questa maniera un avversario del nostro campionato non c'era credo quasi mai capitato e che quindi tanti spunti questa gara ce l'ha dati, ma lo spunto più importante è quello che vogliamo prendere, abbiamo l'intenzione di ripartire con un piglio diverso rispetto a quello con cui abbiamo lasciato lo stadio e che non ci è piaciuto assolutamente. Quando si è liberi di testa, quando si ha la possibilità di poter essere coraggiosi sicuramente si riescono a esprimere meglio quelle che sono le qualità e noi siamo stati in grado di poterlo dimostrare e non ci siamo riusciti nell'ultima gara, non ci siamo riusciti qualche gara precedente, lo stesso in casa contro il Palermo, però credo che non sia stata proprio di una situazione voluta perché in campo come in altre occasioni credo che ci siano stati al pari di altre partite e non ultima Perugia gli stessi giocatori offensivi in campo, ovviamente continuo a credere che non determina il risultato di una partita e il modulo con cui si scende in campo ma è importante l'atteggiamento con cui si fanno le partite e il nostro sicuramente non è stato quello che andava usato contro un avversario del genere quindi abbiamo concesso i fianchi a un avversario che è stato bravo a saperseli prendere, a saper colpire più di una volta e come ho detto anche ai ragazzi abbiamo esaltato le grandissime qualità che hanno loro senza mai riuscire a far venire fuori i difetti che anche le squadre forti hanno e noi ovviamente ci siamo messi in difficoltà per lunghi tratti della partita, però questo è stato analizzato, ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto ne siamo consapevoli e vogliamo riprendere il nostro cammino ho scelto di avere questo ruolo e mi piace avere la responsabilità di fare delle scelte che ovviamente dopo sono opinabili e quindi dipende da molti giudizi giustamente come sappiamo benissimo dagli eventi della gara e la cosa importante è che noi abbiamo inserito qualche ragazzo, all'inizio sono arrivati tanti ragazzi nuovi e nel tempo col lavoro siamo stati in grado di riuscire a trovare una nostra identità abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo qualche giocatore in qualche ruolo, ne abbiamo qualcuno in meno in qualcun altro proprio per questo dobbiamo essere bravi a saper occupare diverse zone di campo che non significa secondo me fare confusione ma significa riuscire a occupare bene il campo con i giocatori bravi che si hanno a disposizione di volta in volta provare a fare delle scelte e cercare il prima possibile di riuscire ad ottenere una quadratura per portare avanti quello che eravamo riusciti a portare avanti dopo una fase iniziale di campionato credo anche abbastanza complicata al di là delle scelte che vengono fatte di domenica in domenica da parte mia non ci sono mai state né bocciature né promozioni né accantonamenti né esaltamenti, da parte mia ci sono delle scelte di partita in partita pensando di poter mettere la formazione migliore per quella settimana ovviamente a volte si viene smentiti purtroppo come è stato il caso di sabato e dal giorno dopo siamo ripartiti non c'è stato nessuno screzio con nessuno perché sono stati tanti ragazzi che sono andati in panchina avendo tanti giocatori bravi ovviamente più di qualcuno è capitato e anche più di una volta di andare in panchina e potrà ricapitare come ho detto pochi giorni fa a loro da parte nostra c'è deve essere la consapevolezza che nessuno è stato mai in grado di vincere qualcosa da solo al di là di una barra due partite ma che nell'arco di una lunga maratona è la forza del gruppo e della squadra quella che ha sempre la meglio Grazie